piccola si sia proprio per quello che secondo me appunto in realtà smashville è più unico si esatta la stagelist ragazzi abbiamo abbiamo un terzo un terzo caster insieme a noi 4 ha giusto aver ragione il proprietario di noi roy starà qua e ci dirà a che a che persiente moriranno di 6b 30 a 30 per sient abbiamo il drissora contro isabella partita subito sarà che ci guarda dritto meglio che so che cazzo è cattivo e la sola sola vuole vuole fuori di tutti tipo giochi giocati formato ok nei neri vedo dei nerlu cattivi piccoli loop ok buono buono ok vediamo un po di neutra allora dico subito sora non è un pg che dove tu puoi correre quando tu sei sora non puoi correre addosso all'avversario perché la prendata non lo aiuta così tanto è un bait and punish un mezzo perché metti caso mi trovo la finestra giusta i danni arrivano in questo momento con il topo non c'è stato col fai raga coltano frisaga è filto lo manda fuori e titolo rimanda fuori ha guadagnato spazio così un po da nulla dire sia è fine anche si è lanciato bello drop legge con la canna buono ok quando lo vedo abbastanza aggressivo in questo massimo e lui gioca il gioco è il suo cambrai e fit non distrugge la trappola o che è interessante però lo distrugge sedi e non l'attiva servizio rano la distrugge non l'attiva è molto utile questa cosa alla canna ritorna la canna che ritorna indietro ho tenuto scudo troppo poco allora a quella per siente basta un è un landing fair un air per portarsi a casa la stock da parte persona è il acqua già un bravo spainano non mesciare se mesciavo era morto spacciadissimo hit buona di ai buona attenzione fa scattare la trappola buona di ai l'insangibilità un altro down smash era finito con lo scudo ai 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 oddio dove va dall'altra parte preferisce bell'idea sora dice isabel lo fa lo faccio anch'io non me ne prega niente la scivolata la scivolata esploso tutto la scivolata esplosiva a giro per siente la presa la stock ok un po di bullet tell come abbiamo predetto va sotto ma tutto sotto allo stile ricordiamo che a sora frega niente prova a prendere il controllo in realtà no non ce la fa ma allora si voliata niente vediamo continuamente i cambi di fronte non sembra che sia particolarmente interessato la stage controllo ok van ha premuto il tasto b e anche taundato ha fermato il tempo ha permuto molte volte il tasto b ha fermato il tempo per prendere fiat un secondo ha provato il jungle non ha trovato il secondo aperto l'extrap era di poco quel gizzi quel gironio era di poco fuori dalla dalla roda mi ha detto come si chiama al da obb di isabel perché io non l'ho giro niente gironio è lo stesso che se è lo stesso 6b di villager infatti non ho mai capito quello come si chiamasse chiama gironio ok appiazzato immaginavo appiazzato gironio la settata isabel gran cacciatrice scende sotto ma dall'altra parte allora che adesso ho visto molto di più sola scendere rispetto a isabel ok a teccato è salvato dal gironio riuscito riuscito a uscirne ridendo e scherzando final si è ripreso una discreta lì infatti però stando stia zitti zitti niente sembra stia facendo molto aggressivo è molto aggressivo vuole non vuole lasciargli spazio e infatti il final non sta trovando il tempo di piazzare gironio mettere se si è tappare un po di trappole ma ci ha provato mescolosissimo cose l'hanno sbagliato fortissimo ok la mancata la canna meno male sarebbe morto lenti bella di ai è un'altra trappolina dire alle detti gironi ogni tre per due non te li trovi sotto i piedi ragazzi petizione per meno gironi nelle nostre strade è assolutamente tandaga non di tuge blizzaga distruggi ragazzi ma è stato colpito un momento si è fatto fare si è fatto fare comunque 30 danni solamente di fiondine point blank piondina prende la stock prende la stock vantaggio di poi non faceva paurissima quando vedi sono tutto concentrato che carica alla trappola resti molto buono la simoli la simoliata per terra è bella tec non avrebbe colpito però di questa sta trovando sta trovando molto advantage final con tutte le trappoline non vorrei secondo me ben sta iniziando sta iniziando a essere troppo impaziente sta push a bella per bello bello e il gironio l'ha distrutto quando con la persa incredibile ok tra naga 19 anni allora 87 per cento è in kill per cent il problema è che se vuole sora ti fa una percentuale tu sei morto quello è vero però non è che sia una cosa così semplice no infatti non è semplice è leggera flotti ricordiamoci che comunque isabel pesa più di sora sakurai ci ha dimostrato che isabel è più cicciora di sora canna come lo scudo di quella canna lì però non è rican ma tanto cioè può farlo c'è il gironio per terra nel caso mi si allontana dietro a pezzi o saura di conti io è già comisa che la dia non è stata perfetta è però 120 difficile scannata in alto e 1 a 0 per final canne da press e come si può messero isabel grande pescatrice siamo in un caccia di pesca qua veramente infatti ora che anche adesso che anche il dungai è arrivato su smash ha un buon compagno di pesca isabel super best friend forever veramente insieme dovresti voluto il dungai su smash però come personaggio normale abbiamo visto cose che non si dovrebbero far vedere di chi è quella switch aveva visto delle bubas non si fa non si fa ai 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 prendiamo switch subito ok ok fratello e dungai francamente ti lo avrei apprezzato come personaggio ma più che altro per la vostra si è ma poi scu allora ok dungai come come mi costume ma metti di una metti di una host l'hanno messa shantai l'hanno messa a capete e sas qui per lì c'è nella fine è vero si potrebbe fare grand final shantai stage non batte pedro ok ok togliamo una piatta e ritorniamo lo so di prima prima era stato bannato in effetti si è vero dallo stesso ben porta e mi sembra di sì sì pato abbia messa un descammativo bracket puoi vedere tutto ok in due in due a se ci saranno giustamente da parte di ben io deve solamente stare stare più attento e forse meno o meno cattivo meno a pushare però giustamente non può lasciare neanche tanto spazio isola infatti infatti c'è una volta che dentro dovrebbe cercare di affittarne ma è vero che non è facilissimo sì sì poi con un personaggio così flotti come sora che deve riuscire agli fsmash così per riequilibrare le persiente e poi vabbè quel dash attacchi è incredibile è un dash attacchi dici di rogno ok landing landing nair e fsmash lo va a prendere giù non lo lascia stare però vabbè anche isabel può volare a nessuno dei due frega niente lo potrebbe giocare giù tutto il tempo uno stage senza piattaforma andrebbe bene uguale oa o i api fa malissimo quella di una spesa molto convincente buono 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 50 per cento va bene ci sta ci sta se non ci fosse un postato il gironio lì partiva o la la smash o qualche mix appino ne fsmash proprio gridi no non c'è sora nel tuo è venuto mettere il punto interrogativo l'uomo misterioso era abbastanza misterioso fino a quando l'ha rivelato molto ok counter io dovrei vedere un po di più quel counter non riflette però comunque fa in modo che ti puoi ti puoi avvicinare non so però se gli da un primo advantage sufficiente da vicino magari può colpirlo giustamente potrà colpirlo sei abbastanza vicino però magari un'ombrellata in testa ok fai la scena sconde un pochino sotto ok adesso attacca bene ad approfittarne comunque si ho preso dentro il cagnolino congelato un po di misinfo è speso giù non è molto di più ok ok però pure ha fatto scoppiare col seconda e si è vero perché il dannino della prima ok qui c'era un c'era la day one nel 1 nel 2 nel 1 nel 2 vai raga lo prende lo mette in tasca il fuego è tilt bravo e quasi prende la stock ha preso mi è piaciuto il tentativo va bene va bene va bene va bene uguale era comunque era fighissimo peccato ok ok ha proprio preso giù palloncini in un colpo ha un buon vantaggio bene in questo momento si sei decisamente scosso di dosso la passione prima ripartito alla grande direi che prega niente dei filoni via o eccola pecca troppo lento a quella percentuale probabilmente non era true bello bello ottimo molto intelligente anche vel fare solamente un un feira solamente per mandarlo in il roll di paura rollare per paura e quindi cadere giù canna canna presa e niente preso la sto così ladrato ladrato malo isabel pescatrice a fa la fintura fintato e il becker isabel spaventatissima della spada chiave una ladrata se deve capitati per forza voglio dire dannato aia addirittura vada lo facciamo subito così ben vado ti saluta ti fa il saluto il saluto che vuol dire quel beyer effettivamente si è un buon beyer peccato che sia lento è lento con quel moving infatti è un po' è flotti la mossa stessa tra virgolette si si ma proprio la mossa stessa che è flotti perché da come si muove l'animazione non ti aspetti se non si esatto e comina che gioco anch'io dopo questo set dopo questo vi abbandonati perché devo giocare anch'io invece quindi di abbandoniamo entrambi sora 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 ora ha detto wow ok sora ditto sarà rosso contro sarà blu mettiamo qua un punto interrogativo anche per farina le cominciano allora sora del giudizio contro sora a chi non fare se pure la loro no non so niente sono solamente i nomi delle skin non ho mai giocato a kingdom hearts sora di topolino e gli altri esatto a me io io volevo utilizzare la skin la ultima partita bianca solo che giustamente la usano tutti e ho dovuto provvedere a cambiare scegliere un'altra la zebrata si quella zebrata usano tutti mi sono preso quella rossa di pippo mi dicono se non è che quella più bella è una di popperino dovrebbe essere quest'acqua blu se qualche giocatore di kingdom hearts mi da conferma ok counter 1 però non serve a niente che ti dirò di kingdom hearts avrei preferito popperino allora percentuale fanni per final e una discreta lead drips ora verso scoring scudo mangiato da bianca mangio lo scudo che la maniera incredibile insieme al down smash ok mesha fatto bene era alto nel cielo ma l'altro cavolo ci faceva la versione neer e per smesh per prendersi la stock e iniziare intanto bisogna anche scrittare lo spiccaggio importante consona abbastanza anche bisogna essere un po impasticati nel mentre mentre ok ok bello bello gaming progetti al world qua ragazzi ho delle biovibes in questo momento ok landing ecco bravo bravo mi è stato giusto ok forse non è la scelta migliore di entrare quell'app si bello bello veramente bene ok tandaga stage ritandaga bravo final a non andare addosso per via di un eventuale counter che non è arrivato fa altra scelta coraggiosa da parte di final fare questo dico visto che ven è stato parecchio sul personaggio voleva leggere uno spot già fatto bene invece final a rollare spero per final che riesca a trovare la kill al più presto perché lo vedo perché sta solamente arrancando danni in questo momento dei rupo lo prende di sorprese ai non eccellente e abbiamo due stock di vantaggio per ben è già qua mi d'accordo adesso che c'è sembrano star pagando no e sento anche fragment of sorrow in sottofondo il venti fantastico ok tandaga rolla scriva tutti ci sono bello non lo prende ottima la di ora di hai preso da centro stage e gli ha permesso di non morire rolle però per i bomba rinici con per i bravo bravo final ok un po tentativo non anche se non ha preso la combo bravo bene a scudare subito allora a quelle percentuali e le piatte così basse ci possono stare tipo dei dei gel block con fai raga che sono spettacolari sono droga quando li fai 9 ok ok allora sei l'occasione è l'occasione per fai la questa però bene devi stare calmo e non lasciarsi prendere dal panico per questa stocca presa soffersa più che presa va bene va bene è il che tiene fuori che abito ora 4 bravo final ancora non andargli addosso col 6b ok ok allora è ritornata a ive ne è ritornata in praticamente sì quella 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 di lasciata che prende il contro stage ben o congelato e lanciato orco aspetta bell'idea lì da parte di inizio e per tornare in stage in modo il counter non ha funzionato forse perché era leggermente dietro sola quel tandaga potersi è rai torna sione rischiosa ed era sesto tutto ma dietro ma non basta neanche per scherzo no va va per quanto sia leggero non basta mandata di nuovo ora è fatto colpire tre volte così secondo me bene un po si sta impanicando un pochino e vedendo l'eventuale l'eventuale clani fulmine 7 ok scappa bene scappa via quello oscuro piccolissimo ok dash attack non poteva fare altro a parte grabbar no odio rischiati ma rischiatissima può finire da un momento all'altro in qualsiasi modo è piaciuto vero con lasciata fai la bizzaga ribida l'ambio di stage control ho preso git e prende il game abbiamo anche il commento di ben riguardo a questa sola ditto complimenti bravi ragazzi però la maledizione delle cringiate te le prendi sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti